Una piccola carrellata di monete in fase di pulizia, lavorazione, vediamo un po'. Qua abbiamo, si vede pochissimo, un centesimo regno Lombardo-Veneto dovrebbe essere. No, Lombardo, ma Lombardo-Veneto. Qui abbiamo, questo deve essere un... di Venezia. Qua, questa non è un'idea proprio. Un perro strungarico, non lo so, non si legge bene. La classica 5 lire, 200 lire, il bronzetto da 10 centesimi, dovrebbe essere questo. Sì, un vittorio. Qui abbiamo, intanto è salito anche il gatto, abbiamo un altro centesimo Lombardo-Veneto. Un centesimo Vittorio Emanuele, questo sì. La moneta più piccola in assoluto. Questo è un altro... sono sei bagattini di Venezia. Diciamo che questa è abbastanza decente. Era piegata, ma... Qui abbiamo ancora... Regno d'Italia. No, Regno... Potremmo si mette a fuoco, perché non si vede una mazza. C'è sempre la roba del Regno, comunque. Qui abbiamo, boh, queste qua sono DINARI, ancora dell'ex Vigoslavia. L'ho trovato in due o tre, più o meno nello stesso buco. Questo... Diciamo a distanza di molto poco uno dall'altro. Qui abbiamo ancora... Questo cos'è? Un cinque centesimi. Sempre Vittorio. Qua c'è una votiva disastratta, sempre della prima comunione, come quella che avevo messo già in altri video. Condizioni pessime. Questa invece è una votiva, penso, del 1700-1800, tenuta bene, a parte che ha rotto l'apicagnolo, ma... San... San Paolo, San Paolo. Doloroso, dolorosa. Non ho idea. Allora, la Madonna... Questa qua dovrebbe essere, se non mi sbaglio, perché... è la Madonna dei Sette Dolori, che ci sono, come vedete, sette spade. Sì, roba comunque del 1700. Qui ancora... Monete del Regno d'Italia. Qua vediamo un po'. Questo qua penso sia un pezzo di bronzo, sinceramente non lo so. Mi piaceva. Venti centesimi. Questi qua saranno dieci ape. 5 centesimi vittorio, un quarto di dollaro. Questo però non so se l'ho trovato, no? Questo mi sa che non c'entra niente. Forse l'ho trovato in qualche cantina. Qua cosa abbiamo? 5 lire. 10 ape. E questo è il bottino. È stato molto buono. Per ora. Per ora. Questa qua.